Bella ragazzi sono Erma e benvenuti in questo nuovo video di Call of Duty Oggi siamo su Black Ops 2 Siamo per fare una sopravvivenza sulla mappa Baried In compagnia di Ricky e di Davide Davide non lo sentirete perchè ha un microfono della madonna E' un casino assurdo per più o meno sentire la sua voce E' la seconda volta che riniziamo la mappa per colpa mia Ecco perchè un pirla ha fatto rientrare il gigante nella teglia Ma non è colpa mia, ma si è anche buggata la mappa Dillo questo no? Eh se non è sponata la chiave dove possiamo andare non è colpa mia no? Noi facciamo sempre la colpa a te Esatto, diamo sempre la colpa a te Allora, alcolici Ma se adesso non mi sentite grazie No, credo che ti senta solo io No, no, io lo sento più o meno Eh, basta Più o meno Allora, riprendiamoci il Galil dell'altra parte E' lasciato l'arma? Eh certo Vuoi fare cassa all'infinito Come si lasciano le armi? Eh, vai nell'arma dietro e ce la depositi L'ho lasciato tipo per tre mesi Ho lasciato un AN paga panciata E poi per altri tre mesi un AN paga panciata No, io ho giocato l'anapaga panciata Ok, riprendiamoci i nostri 12.000 punti Mi vado a prendere i miei Non so sinceramente quanti punti ci ho lasciato io Boh, io tipo continuo a prenderne e non finiscono mai Mi tocca a tingere i miei risparmi Prima io e David abbiamo fatto una partita Ho 10.000 punti Per il momento vanno bene Sinceramente non so quanti ce ne ho lasciati Ma se io li prendo tutti vado 9.999 E 999.999 Cioè, mi sa che tipo Qualche volta ho fatto qualche partita con voi O con altri amici miei Perché tipo una volta ero arrivato al round 30 io E avevo tipo 50.000-60.000 punti e li ho lasciati La cassa è bloccata Eh, non ho capito La cassa ancora non è bloccata No, adesso la blocco Ok La sagoma dell'arma l'avete presa? Sì, io ho fatto il tirapugno Io ho preso l'ex La corrente l'avete accesa? No Andate a valla accendere tu Eh, aspetta Dove minchia si accendeva? Non mi ricordo Dove devo andare? Cassa è bloccata Ci sono perso Adesso Prima che succeda come prima Alcolici e Jug Dove è? Dove è? Vieni qua Vieni qui tu Vieni 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 Ah, allora Di sagoma che ne so Prendo il PVE Il PVE Mi drogo E c'è la corrente Ah, ho preso il Jug Un punto interrogativo Dove posso mettere quest'arma Eeeh, non ce n'è adesso Cioè, dobbiamo prima Ok, ok La cassa è bloccata Io mi farei cassa Giusto per vedere che trovo Sì, scimmiezze Scimmie esplosive? Carine! Dai, dai Che adesso ci spendo Di nuovo 30.000 punti Prima di far uscire la barbina Spendo la N Bello Muori, cazzo No, no, basta Non la basta Non la vado Adesso vado a prendermi Alzi 30.000 punti Sì Mark 2 Oh Ora si ragiona Non posso prendere tutti i punti Sennò crasha la play Eeeh Io direi di andare avanti Di non salire troppo Di round Sennò poi è un casino Eh, lo so Io voglio solo la Mark 2 E poi per me possiamo anche andare Ma il gigante Che ne so Gli fate aprire il jug magari È già aperto E l'ho anche già preso Gli dobbiamo far aprire Dillo prima Scusa, non lo vedi Ah, quando andiamo dalle streghe Stoglietegli tutti i punti Già vuole Sì, sì Ce l'hai ancora? Vuoi che passi alle gambe? Sì Non mi trovo altre armi Abbiamo guadagnato un po' di tempo Eh, non puoi metterla nell'arma dieta La Mark 2 No, non l'ha mai Nessere te l'armi Ma la presto Minchia, parla tu dell'armi Al 5 andiamo Ok Bomba a tempo Bomba a tempo Perfetto Io c'ho le scimmie Se le devo lanciare Ditemelo Ma quando ho fatto il tirapugni 6.000 punti Me lo prendo il tirapugni, Ricky Eh? C'ho 6.000 punti Me lo prendo il tirapugni Ma io ce l'ho già Io ce l'ho da round 1 Vabbò me lo vedi Eh Vai a f***lo Stai zitto, rapida No Voglio testare la potenza del tirapugni One shot Ma One shot fino a che round? Fino a che round one shot? Fino al 13 o al 14 Vabbò e poi dopo ce ne vogliono due Uff Sì Che c'è? Vai a f***lo, va Testai Quante volte hai trovato la Reagan? No, non mi esce la Mark 2 Ma non la trovi tanto Fidati Fidati che c'ho così tanti punti che esce Hai 3.000 punti Non è che ne hai Eh? Eh, perché poi li vado a prendere Ah Ma la Mark 2 è l'unica arma che non si può mettere nell'armadietto Mark 2 è Reagan Ok Ok andiamo Ricky L'FMR No aspetta Devi prima far finire Per uccidere un po' di zombie Ok Ma adesso dobbiamo andare dalle streghe Sì Però voi dovete prendere gli alcolici E farli spaccare la fontana E la zona dove si entra alle streghe Ma l'obiettivo per fare cosa Orrò che dobbiamo fare Ah no Io ci vado con 3.000 punti E mi petto da Il Dabst 2.000 allora Sì ma con 1.000 Gua ma io a me Non so parlare Basterebbe una Speedy Golem La Speedy La Speedy la prendi quando dormi Perché te ne danno 2 di perk le streghe praticamente E può darsi che ti diano la Speedy Eh vai io mi petto il Jack Minta Gesù Cristo Minta Gesù Cristo Quando troviamo Quando io trovo la Mardura Andiamo Sì e allora No Mettiti dentro la cella Davide Ecco Buono Stai lì Ecco poi chi è che lo spara sempre? Chi è? Tu Io Non l'ho sparato io ora Vai a prendere i dolci o gli alcolici E dagli una coltellata che poi ti segue Gli alcolici dove sono? E vai a prendere i dolci Che sono dentro dove accendi la luce in basso nell'altra stanza No Gli alcolici lo so dove sono Ricky però se avuti di gridare Ok Ok c'ho i dolci Quarantamila punti Eh la apro la porta quella lì della dolciumeria Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Apro la porta dei dolci No Vabbè si apri un altro Apro No aspetta La faccio con i punti si 1250 cost si Ho aperto Ah c'ho gli alcolici anche Io c'ho le caramelle Ah ok Tiente le linee caramelle Ma a che servono le caramelle? Ah serviva per farli bloccare la cassa Ok non uccidete quest'ultimo zombie qua E perché me l'avete fatti prendere? E perché non sapevo dove erano gli alcolici Non lo uccidete Non è l'ultimo Eh lo so ma te non lo uccidere lo stesso Noi ce n'ho sempre due Metti che uno muoia accidentalmente Ok scusa Sento uno che corre Quello è Sì è ricchi Eh? Dove sei? E come faccio a coprirsi? Viene lo zombie Coprimi Lo zombie non lo posso uccidere Allora ecco io vi apro La streghe un attimo Non ci entro Non ci entrate Porca traia Allora Tenete sto zombie che devo andare a prendere ancora una volta gli alcolici Vai Davide Tignolo tu Ok Che cosa? Oh che bello Allora 2000 punti Quindi depositiamone 2000 Alcolici Ma noi andando dalle streghe Che facciamo? L'utilità di andare lì Ehm Vai Poi li superi E vai a pacapanciare Ah Ok Adesso visto che andiamo dalle streghe È sempre un caricolo Lancia una bomba a tempo Ok vai vai Ok Dalle streghe Dobbiamo restare tutti vicini Uno all'altro Cosa? Sì sì Dalle streghe Bisogna stare vicini Sì lo so Ma quando tolgono ogni Tu fermi Stai fermo Vattene Vattene Madonna Adesso segue te Cazzo E segue te Perché segue me? Vieni qua vicino la fontana Madonna Vieni vicino la fontana Perché Segue te non si sa Perché? Davide Te tieni lo zombie E vai lontano Dal di qua Torna indietro Vai tu cazzo E vada Viene da te Allora Fermo Fallo girare Con la schiena Averso la fontana Così si Dove farlo Eh però stai fermo Non ti muovere E sono fermo Spero che così Te ne starai buono Vai Ok Ma serve per il TK Serve per fare il Teletrasporto Sì Allora adesso Ma appena entriamo Ci buttiamo qui sulla destra Aspetta Aspetta Copriami che devo abbassare il volume Che è un casino assurdo Eh abbassano Davide vieni Ok Ci sei? Sì sì Qua Qua Subito qua giù Prendetevi la double tap No io non la voglio Ok Adesso Uccidiamo un po' le streghe Uccidila Ecco Adesso venite su Sulle scale Merda Devo ricaricare Andiamo Andiamo Merda Ma perché Non muoiono One shot Le figlie di troia Allora Allora Venite qua Venite 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 Vai vai Io le shoto anche con i puni Venite Ok Venite 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 qua giù E puntatevi Ok Non mi faccio far scegliere Aspetta che vengano Aspetta che vengano qua Eh mi si aspetta Ma da dove è venuto il gigante? Ok Facciamole scendere Eh eh Perché il gigante è qua? Ecco Non lo so Mi ha dato il quick A me A me Ma cos'è? Quello lì azzurro Quick revive Penso che mi ha dato Che simbolo ha? Ok Eee Azzurro Tipo una sagoma Uno che da terra si alza Ah il quick Venite di qua Ok Vediamo se No ecco ecco Me la ricordo Madonna Vai 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 Tranquillo Vai Però sono toste le streghe No Eh davide Di qua No Aspetta 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 No abbiamo sbagliato proprio strada Dove sei andato Ma io mi son perso Ok sto tornando Dove si è? Ok Di qua Dobbiamo andare Chiuso Minchia non mi ricordo più di schemi del labirinto Grande Eh sto andando infatti L'ho vista Eccola qua Dovrebbe essere questa No è più Ancora quella più indietro Vabbè Basta che ci avrete Trovare voi una strada E per me vabbè Oh Quattro Di qui si va? Ok Ma c'è la strada lunga Ecco Ma che cosa spari con la rare? Perché spari con la bar 2? Non lo so Mi piace buttare colpi Eccoci Ok Prendetevi Oddio che paura Vai giù qua Attenzione Ecco infilati qua Qua dentro Lo so E rimani qua Attenzione che qui si cade Si muore Ci vado giù io Sono già sicuro che cado Io vado su Io sto su No Quello sono io che tutte le volte Davide attenzione che li cadi Vado giù io Minchia che sfiga Ho Ho tirato una coltellata Io ho la speedicola